Morgan, sei uno dei più giovani centauri aretini che si stanno impegnando con il motocross il prossimo 21 settembre che appuntamento avrai? Il campionato italiano flora E quindi sei stato convocato con i migliori atleti italiani, giusto? Senti, è un mese di settembre molto impegnativo per te quello che si apre Quante gare dovrai disputare? Tante Che impegni hai? Abbiamo anche il campionato toscano, giusto? Sì E quando hai iniziato ad andare in moto? A tre anni È stata una tua scelta oppure te l'ha suggerito qualcuno? La mia scelta E senti, cosa ti piace della motocross? Tutto E senti, i tuoi genitori sono contenti? Sì Cosa ti piace fare quando sei in moto? I salti, le curve, la partenza Senti, c'è anche un nonno che ti viene dietro, che ti dà una mano come meccanico Chi è? È Dario E cosa fa principalmente? È il meccanico E senti, a questo punto cosa ti aspetti dal campionato, insomma da questa prova con la nazionale italiana? Spero di fare un bel risultato e portare l'Italia a vincere In bucca al lupo allora Grazie